Buongiorno a tutti, allora film pettino da brrrr che freddo che fa se riesco a prendere il cappuccio, eccolo qua, recuperiamo il cappuccio, eccoci che così ci riscaldiamo bene, perché dobbiamo tornare a parlare dello sci del gennaio 2023, abbiamo fatto Super G, abbiamo fatto la discesa libera, adesso c'è anche lo slalom speciale di Wengen del 15 gennaio 2023, andiamo a vedere come è andata la prima manche, una prima manche che ha visto prima Braten partire col pettorale numero uno e naturalmente mettersi subito a sedere sul podio, ma non ha fatto in tempo a sedersi sullo scranno del numero uno che Meillard con il pettorale 3 gli ha portato via la prima posizione e tra l'altro poi è sceso anche Christofferson e si è inserito in seconda posizione, poi gli altri purtroppo c'era neve che hanno fatto il possibile per renderla diciamo sciabile se mi permettete il termine, sale, c'era naturalmente ha messo il sale, e quindi c'era una pista che dopo le discese dei primi 5-6 già lì era già andata a fufulla, infatti i distacchi sono stati di un certo livello e siamo arrivati che quello che si è qualificato per trentesimo aveva più di 5 secondi di distacco dal primo, il che è tutto dire. Comunque, per quanto riguarda invece i nostri italiani, poi vi dirò anche la classifica, Bene Sala che è sesto ma con un secondo e 61 di ritardo, Binino Binazzer che è tredicesimo ma tempo altino direi, Razzoli con quasi 4 secondi o 4 secondi di ritardo è ventitresimo e Morberger si è riuscito a qualificare con qualche centesimino in più di Razzoli perché è ventiquattresimo, ma i distacchi appunto sono superiori ai 4 secondi rispetto al primo. Certo, poi nella seconda manche partendo comunque tra i primi si può cercare di recuperare qualche posizione. Nei primi 30, perché poi dopo c'è stata le catombe perché di quelli che sono scesi dal 31 in poi la maggior parte non hanno finito la gara o non sono riusciti a stare nei 30, dei primi 30 che hanno raggiunto il traguardo, anzi che non hanno raggiunto il traguardo, ci sono Pazzerello, Ferrer, Feller, perché ha inforcazzo, ha inforcato, mi sto immaginando la lingua, Haugan, Haugan, il cronista ha detto Haugan, quindi dico Haugan, io dicevo Haugan ma invece è Haugan come è scritto, anche lui ha inforcato, Fossollevag invece è Burlaggio, niente di grave però si è ribaltato, Strain che ha inforcato, Gross purtroppo ha preso proprio i pali secchi belli, avete presente quando non ce la fai e allarghi le gambe vai in mezzo e prendi in piedi i pali qua sul petto, vabbè sono coperti, e infine Popov che ha saltato la porta, si è fatto una decina di metri sulla scaletta, ha ripreso la porta, è sceso, ma è arrivato Juhal, con 20 secondi di ritardo poteva anche farne a meno, però ci ha voluto provare, vabbè. La classifica comunque dopo la prima manche vede Meillard primo, Christofferson è secondo a 45 centesimi, Braten è terzo a 48 centesimi, Linus Strasser è quarto a 68 centesimi, e questi sono gli unici tre sciatori che sono riusciti a stare sotto il secondo, perché al quinto posto c'è Meillard a un secondo e 0,4, al sesto c'è Sala a un secondo e 61, al settimo c'è Noel a 1,86, all'ottavo c'è Yul a 1,96, pensate l'ottavo ha preso un secondo e 96 dal primo, il nono è Zenosen, il gigante buono Zenosen a 2,21, e decimo sfalza a 2,45. Per quanto riguarda gli italiani, gli 11,2 che appunto si sono qualificati, abbiamo Binazzer tredicesimo e poi appunto ventitresimo e ventiquattresimo, il bond l'aiuto dove l'ho messo, dove l'avevo anche letto, Razzoli che è ventitresimo e Morberger che è ventiquattresimo, ma sono oltre i 4 secondi di ritardo, bene, 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 insomma bene, ma abbiamo un sesto e un tredicesimo posto, diciamo che magari qualcosa può venire fuori, uno e ventitresimo, un altro e ventiquattresimo, entrare nei quindici, Sala dura però, inizia la seconda manche perché è quella che conta, la prima manche conta, ma poi dopo vediamo se penso che la seconda manche ribalta tutto, cioè il ribaltone, come si suol dire dopo, faremo anche il paragone tra prima e seconda manche, come facevo sempre. Il primo a scendere sotto una bella nevicata, perché giustamente ci mancava anche la nevicata dal bidire, è ad all'intrentesimo con un distacco dal primo di ben 5 secondi e 65. Vediamo se riesce a finire la gara e che tempo farà. Il suo tempo è 1,57 e 42. Tocca all'americano Richie, Richie, vantaggio su Adalind di 24 centesimi, ma è me dopo il secondo intermedio in luce rossa di 8 centesimi, inforca e saluta la gara, quindi il buon Adalind zitto zitto ha già recuperato una posizione senza colpo ferito, magari l'avrebbe recuperata allo stesso, visto che Richie era già con 8 centesimi di ritardo. Tocca a Simone, vantaggio di 38 centesimi su Adalind e naturalmente 28esimo posto dopo la prima manche. Allora, i casi sono due. O Adalind è semplicemente sceso per finire la gara e portarsi a casa il suo punticino, sperando magari in qualche inforcata per recuperare a qualche altra posizione, o Simone ha fatto la gara della vita, perché è primo con la bellezza di 2 secondi e 14 di vantaggio. Ragazzi miei, 2 secondi e 14 di vantaggio, sono tantini, però adesso abbiamo la riprova, perché tocca a Stan Olsen, 27esimo dopo la prima manche, solo 10 centesimi di vantaggio su Simone. Buona gara, sempre in luce verde e alla fine è primo con 16 centesimi di vantaggio. Confermo che il buon Adalind è sceso per onor di firma e portarsi a casa più punticini possibili senza rischiare. Tocca a Maes, Maes, 26esimo dopo la prima manche, partendo con il pettorale, pensate 62. Purtroppo inforca e decide di fare la scadetta per finire la gara, ma alla fine arriva sul traguardo con ben 20 secondi di ritardo. Probabilmente, come ha detto Morley Cronisti, era giusto, dopo che hai fatto un'impresa entrare nei primi 30 col 62 su una pista del genere, è giusto finire la gara anche se non ti daranno punti. Zitto zitto il buon Stan Olsen recupera perché adesso tocca al nostro Morberger, 24esimo dopo la prima manche, e vantaggio di 26 centesimi. Purtroppo anche Morberger si deve arrendere alla legge del buon Stan Olsen, è quarto con ben 48 centesimi di ritardo, in ogni caso punticini per lui perché Morberger 24esimo dovevo scendere ancora a 23, male che vada sarà a 27esimo se tutti gli stanno davanti. Non lo so, vedremo. Tocca al nostro Ranzoli, vantaggio di 38 centesimi e 23esimo appunto dopo la prima manche. Ahimè, è soltanto quinto con la bellezza di due secondi di ritardo. Devo dire che i nostri primi due sciatori non sono andati benissimo, finiranno sicuramente nei 30, porteranno a casa dei punticini, però si sperava che recuperassero qualche posizioncella. E signori miei, zitto, zitto, cacchio, cacchio, il buon Stan Olsen, male che vada, sarà a 16esimo, perché adesso tocca a Jakobsen, Jakobsen, scusate, 15esimo dopo la prima manche, vantaggio di 1,51 sullo sciatore norvegese. Purtroppo il buon Jakobsen dopo il terzo intermedio in luce verde di 33 centesimi, quindi avrebbe potuto, anche se ha perso un botto, avrebbe comunque potuto stare davanti, inforca e butta via la gara. Era lì, era lì lì per quasi finire invece ha inforcato. Il zitto zitto, il buon Stan Olsen, entra nei 15. Tocca al nostro Alex Winazzer, tredicesimo dopo la prima manche, vantaggio di 1,96 sullo sciatore norvegese. È brutto dirlo, perché dire bravissimo a uno che perde un secondo di vantaggio, uno dice ma sei matto? Cioè aveva un secondo e 96, vince con 93 centesimi di vantaggio, perde un secondo e 0,3 del vantaggio che aveva e tu gli dici bravissimo, sì, perché fino adesso tutti quelli che sono hanno provato a sfidare Stan Olsen sono finiti o dietro o hanno inforcato e avevano dei discreti vantaggi anche loro, indi per cui perdere solo un secondo, diciamo che è buono, intanto il buon Binazsar si garantisce il tredicesimo tempo e poi vediamo cosa succede. Per ora è primo, ne devono scendere ancora 12, vediamo che succede. tocca a Sfarz decimo dopo la prima masce, vantaggio di 78 centesimi sul nostro atleta, visto che gli altri due che sono scesi non sono riusciti a fare meglio del buon Binazsar, che quindi si avvicina lentamente al decimo posto. però per ora si deve accontentare dell'undicesimo perché bravissimo Sfarz si prende al primo posto con ben un secondo e 15 di vantaggio attenzione che Sfarz zitto zitto cacchio cacchio potrebbe anche riuscire nell'impresa di entrare nei primi cinque sarà dura però potrebbe. tocca a Noel settimo dopo la prima masce vantaggio di 57 centesimi su Sfarz Sfarz gara non facile perché le condizioni meteo a parte la nevicata a parte la pista che non è il massimo hanno fatto il possibile per renderla giocabile se mi permettete il termine però era al limite della praticabilità se fosse una partita di calcio diremmo è al limite campo al limite della praticabilità ma si può giocare. Comunque alla fine il buon Noel per soli pensate 5 centesimi riesce a stare davanti a Sfarz che quindi in ogni caso male che vada sarà ottavo era undicesimo tre posizioni recuperate. tocca al nostro Sala che ha 25 secondi di vantaggio su Noel vediamo se riesce a stargli davanti ahimè non solo deve arrendersi a Noel ma deve arrendersi anche al buon Sfarz perché il nostro Sala è solo terzo quindi male che vada sarà ottavo sarà sicuramente nei dieci e nei dieci abbiamo anche il buon Binaz perché chi gli poteva stare davanti è finito dietro e quindi ottavo e decimo ad andare bene ad andare proprio minimo poi se ci va succede qualche altro patatrac tocca a McGrath quinto dopo la prima mance vantaggio di 82 centesimi sullo sciatore francese cioè Noel alla fine anche lui riesce a prendersi il primo posto ma pensate per soli 9 centesimi la differenza 82 centesimi di vantaggio ne ha persi 73 questo per dirvi la difficoltà di questa gara su un terreno non facile ecco diciamo non facile però per ora stanno finendo quasi tutti la gara tocca al buon Linus Linus Strasser quarto dopo la prima mance vantaggio di 36 centesimi sullo sciatore adesso norvegese Bon McGrath anche per lui una buona gara e primo posto con pochissimo ha perso poco ha perso solo 13 centesimi quindi con 23 centesimi di vantaggio il buon Strasser è lì che si garantisce male che va dal quarto posto e se quelli davanti dovessero combinare qualche disastro lui va a podio tocca a Braten vantaggio di 20 centesimi e terzo dopo la prima manche ragazzi miei questo è un fenomeno gara pazzesca dello sciatore norvegese che incrementa il suo vantaggio ed è primo con ben un secondo tondo tondo un secondo uno un secondo tondo tondo sullo sciatore tedesco che a questo punto vede le sue chance di finire sul podio diminuire anche perché gli altri due sono altri due fenomeni tocca a christophersen sfidare il suo connazionale sfida tutta norvegese con soli pensate tre centesimi di vantaggio e naturalmente era secondo dopo la prima manche e ragazzi miei questo è un fenomeno lo sappiamo che christophersen quando sta bene è un fenomeno è primo e con ben 49 centesimi di vantaggio 49 centesimi di vantaggio ha incrementato sul suo connazionale che ha fatto una buonissima gara e adesso ha mandato un bel messaggino a Meillard che deve scendere dopo di lui dicendogli ciccio se vuoi il primo posto devi venire giù a cannone e quindi adesso vediamo Meillard che cosa combina con il suo vantaggio di 45 centesimi sullo sciatore norvegese che scusate il bronco di Riace ha voluto dire la sua anche lui perché è rimasto colpito dalla prova di christophersen e infatti dicevamo a 45 centesimi lo svizzero su christophersen però christophersen ha fatto un garone e purtroppo Meillard troppi piccoli errorini piccole sbavature e alla fine gli costano il primo posto però è secondo con solo 20 centesimi di ritardo ragazzi miei c'è poco da fare quando i campioni sono campioni ci può essere anche la pista più scrausa di questo mondo ma loro gli sci riescono a farli andare lo stesso comunque classifica finale dello slano speciale di Wengen del 15 gennaio 2023 primo christophersen secondo Meillard terzo Braten quarto Strasser quinto Megrat sesto Noël settimo Sfars ottavo Sala nono Zenosen e decimo Binazze rispetto alla prima manche abbiamo christophersen che recupera una posizione e vince la gara e la seconda diventa Pirimo Meillard che perde una posizione ma penso sia contento lo stesso del secondo posto Braten rimane terzo Strasser rimane quarto Megrat rimane quinto Sala purtroppo perde due posizioni da sesto scende in ottava Sfars ne recupera tre da decimo passa a settimo Noël ne recupera uno da settimo passa a sesto Zenosen rimane nono e Binazze si inserisce in decima posizione al posto di Jule perché praticamente dei dieci che sono arrivati nei primi dieci posti l'unico a uscire dalla dalla classifica è Jule solo Jule esce che era ottavo esce dalla classifica tutti gli altri e l'unico che riesce a inserirsi dicendo ci sono anch'io è il nostro buono Binazzo decimo bene stavolta lo slalom speciale non ha rivoluzionato più di tassi c'è dal secondo che ha vinto la gara rispetto al primo però a tutti gli altri più o meno nove su dieci sono rimasti nei dieci l'unico che ne ha approfittato è stato il buon Binazzo per sostituire Jule in decima posizione che Jule era ottavo e Binazzo era entrato in decima sfalza quello che ha recuperato di questi un po' più di posizioni devo dire gara brutta nel senso del meteorologia la nevicata eccetera poi nevica da quell'effetto carino eccetera però io penso a chi è in pista a giocarsela eccetera sarebbe bello se si riuscisse ad avere sempre una pista che tiene e non che quelli che hanno già il 35 il 40 eccetera è già un miracolo se riescono a qualificarsi i trentesimi vabbè ragazzoli io adesso proseguirò con le gare di sci poi se volete vederle ve l'ho detto le guardate se no fa niente non è un problema beh dopo questo video che vedrete nella mattina di venerdì vi faccio anche il video di schedine per gli anticipi di venerdì sera poi mangerò vi farò due video di news e con news non so penso penso stanotte sì prima così ve le vedete al mattino venerdì mattina anche quelli e poi domani nella giornata di venerdì oltre a fare le schedine del gigione per il weekend calcistico cercherò di recuperare anche una gara delle donne sempre nel periodo gennaio farò in modo da andare avanti in parallelo con le date pensiamo metà gennaio gare di metà gennaio 2023 dei maschi le gare di metà gennaio se ce ne sono delle femmine se no quelle dopo spero che nessuno si offenda per il termine femmine e poi andrò avanti e indietro così come da calendario fino ad arrivare poi ci sono non so se i mondiali o si dovrebbe esserci i mondiali che ci sono stati l'anno scorso sempre del febbraio dello scorso anno se non ero metà febbraio più o meno e farò anche quelli recupereremo tutto questo febbraio sarà dedicato moltissimo allo sci poi naturalmente ci sarà il calcio ci sarà la champions ci sono le schedine del gigione ci sono le news le cool news per ora vedremo di inserire anche un po' di news piano piano anche quelle e rifare partire con cool news e news come sempre perché così accontentiamo tutti mi sono dilungato troppo chiedo venia ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao